Per passione Grazie ai diversi di essere qui e grazie innanzitutto al primo cittadino di Imola, Daniele Manca. Ogni decimare qualsiasi giocistista italiano, ma il nome combatteva tutti, era un nome del cannibale. E quindi le gambe classiche. Non abbiamo mai avuto un momento di disattenzione. Lo so andava, lo sostenevo, quindi per me è italiano. La mia vita è al 6 di luglio del 61, era vicino al Palazzo Reale a Lachini. Grazie a tutti. E' stato attivo, ha posato anche durante la cerimonia di apertura. dei giochi onifici di Rio. Quindi... Grazie a te che possa rimettere in campo la Giro d'Italia. Però c'è riuscito, mi ha fatto molto piacere perché è evidente numero zero ma che veda... il futuro ben articolato e ben sostenuto. Grazie, grazie a te. Il ciclismo italiano aveva bisogno di una corsa così. Ne abbiamo sentito la mancanza e quindi la possibilità per tutti questi giorni di mettersi in evidenza. La formazione della regione Emilia Romagna perché in quegli anni si progreva con le maglie regionali mi... La formazione è diretta da James Victor. Fortunato, Massimo Rosa e Alessandro Monaco, il direttore... Francesco Pinicano, Mirko Mecci, dalla Sicilia Angelo Appollo Toro, Andrea Calabrese... Per quanto riguarda la classifica degli scattoli, dei Gran Premi dell'anno. E' un penultimo in classifica generale. C'è gente che non vedeva l'uomo, era pensata di venire a questo spettacolo. Non serve a niente un trolley. Guarda bene, guarda bene, guarda bene. E' leggetto tutto.